Gara Spartiacque per San Buceto e Torrese, Donato Roncima ha d'incampo l'artiglieria pesante con Barrove e Miciche sostenuti da Pellecchi e Bruni che fungono da attaccanti aggiunti risponde Cristofali con Santi Rocco e Antichi sostenuti dalla fantasia di Gentile e da un inesauribile Mastrilli. Si parte subito con la formazione ospite che ci prova con Mosca al quarto minuto, la sua conclusione viene murata dalla difesa di casa. Bomber Miciche mette al centro per Barrove, il colpo di testa è superlativo ma altrettanto è la risposta di Camaglioni che si rifugia in angolo. Ci prova ancora il numero 17 di Viola da 25 metri, ancora una volta si fa trovare pronto il portiere giallorosso. Al trentacinquesimo Mastrilli direttamente da calcio di punizione porta in vantaggio i suoi sinistro chirurgico che beffa però sul suo palo di Donato. Proteste di Viola a minuto 42, calcio d'angolo di Pellecchia che mette al centro il colpo di testa di Bratelli per Carrascosa. Un probabile tocco di mano di un difensore ospite. Vivaci le proteste ma il direttore di gara fa proseguire. Ecco le immagini montate da Flavio Forcellese, passiamo alla ripresa. Primo minuto di giocazione solitaria di Mosca che va via sulla fascia, si accentra, non vuole calciare di sinistra, allora scarica Pertini. Conclusione bloccata dal portiere di casa. Quarto minuto, schema da calcio di punizioni, tutti aspettano l'abbattuto di Pellecchia. Invece arriva lo scavetto per Micciche, il cross al centro che il difensore ospite di Lalli intercetta con un braccio per il dettore di gara. Non ci sono dubbi, Carluccio della sezione dell'Aquila indica il dischetto dagli 11 metri. Micciche realizza l'1-1. Al decimo minuto Mancini, ferma Gentile per Carluccio, non ci sono dubbi, secondo Giallo. E cartellino rosso per il difensore, allora a quel punto Ronci corre ai ripari inserendo Sol per Barrov. Sedicesimo minuto, Mastrilli, traversone dalla sinistra, pallone velenoso che il portiere di casa smanaccia come può. La palla finisce sul palo, ancora in avanti la torrese, Gentile pennella per Selmanai che da buona posizione spara sopra la traversa. Prova a scuotere i suoi, Marchionne la conclusione però termina sull'esterno della rete. Al minuto 26 Micciche cestina il 2-1, Camayoni cincischia con il pallone, si fa soffiare la sfera da Bruni che innesca il numero 17, che però c'entra un difensore ospite. Mastrilli autentico spauracchio della difesa di casa, innesca Antichi, conclusione deviata in angolo da Dino Nato. E al minuto 41 arriva il vantaggio, Moscazione solitaria, innesca sempre sulla sinistra, Mastrilli solito traversone per la corrente Santi Rocco, però viene deviato dalla sua porta da Rosati per il definitivo 2-1. Donato Ronci, una partita sostanzialmente equilibrata che è stata condizionata da quella espulsione nel secondo tempo dopo che eravate riusciti a riprendere la Torrese? Direi che lì purtroppo quella ha condizionato poi l'andamento della partita, anche se la squadra anche in dieci ha fatto una grossa partita. Al primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto una palla importante con Barrova, se magari andavamo in vantaggio noi poteva cambiare un pochettino la situazione tattica. Poi invece il gol l'abbiamo preso su un calcio di punizione, ma non ci siamo disuniti, abbiamo trovato meritatamente il pareggio. E poi siamo rimasti in dieci lì, la responsabilità me la prendo io perché potevo cambiare Mancini un attimo prima, però non avevo tersini di ruolo in panchina, quindi eravamo corti soprattutto dietro perché pensate a giocato Bratelli centrale che è un tersino, quindi non avevo centrali, non avevo tersini. Dovevo cambiare il sistema di gioco un attimo prima, quindi la responsabilità è mia su quella cosa, anche se come ho detto prima Mancini deve stare un attimino più tranquillo perché si è ammonito, quindi bisogna un attimo stare calmi. Non ho fatto in tempo a sostituirlo e purtroppo è successo questo. Poi abbiamo avuto una palla importantissima con Stefano, magari facciamo un gol lì e la partita la portiamo, almeno un risultato positivo lo facciamo. Comunque ringrazio la squadra perché oggi Sambuceto ha fatto una grande partita, con un avversario importante e non meritava assolutamente la sconfitta. Remigio Cristofori, questa torrese si conferma implacabile in trasferta, oggi è spugnata anche Sambuceto con una prestazione gagliarda da parte dei suoi. Sì, è stata veramente una prestazione importante, dopo un avvio molto tattico da parte di entrambe le squadre, sapevamo di affrontare una squadra molto forte, molto organizzata, si siamo messi lì, abbiamo cercato di cambiare qualcosa anche a livello tattico per cercare di sorprenderli, dopodiché abbiamo preso un po' di più il possesso del gioco, loro hanno avuto un'occasione importantissima dopo pochi minuti, da lì siamo cresciuti sempre di più, abbiamo trovato l'episodio del gol sul calcio piazzato. Il secondo tempo siamo ripartiti subito con un pareggio, però poi l'espulsione loro sicuramente ha indirizzato la gara, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, abbiamo creato tantissimo, non sono più riusciti a superare la metà campo e credo che la vittoria sia legittima.